il piacevole einkauf per me significa i clienti che sono soddisfatti quando vengono a fare la spesa qua da noi che trovano tutto quello che cercano che si sentono buon consigliati che trovano tutto quello che hanno bisogno per me è quello proprio il piacevole einkauf con tranquillità come amici praticamente i nostri clienti di appiano sono molto contenti che siamo qua che siamo anche in centro così possono fare la spesa molto comoda a piedi con la bicicletta col pullman che proprio è attaccato al negozio grazie a tutti